Come ti chiamai e a che equipe appartenesti? Io mi chiamo Oliviero Troia e appartengo al UAE Team Emirates. Che aspettative hai della volta di San Juan? È la prima volta che vieni? No, è la seconda volta e io voglio vincere una tappa. Ti ha gustato la prima? Si, molto. E perché ti ha gustato? Perché fa caldo e è bello. È il calore? È il calore, sì. E in questa opportunità, che è lo che vuoi fare in questa volta di San Juan? Vieni a tornare? Ho capito. Cosa ti potrà accadere di positivo in questa volta di San Juan? Gagnare una tappa, no? Gagnare una tappa e questa è la preparazione per altre competizioni di anni. qual è la preparazione che hai per questo tipo di eventi? Gagnare una tappa? e basta. Il sacrificio, la alimentazione, la concentrazione e l'impegno. Il rilievo che ha San Juan è sembra al che voi praticate? Si practica in un rilievo come questo, montagno. È un percorso mixto, adattato per Oliviero. Tiene etapa in tutto il piano, una etapa con subito. Una etapa con subito, per lavorare con altri compagni di equipi. Aproximadamente, quanti integranti del equipi hai? 6 corridori, 6 corridori di equipi. Tiene possibilità sia per la classifica generale che per ganare la etapa singola. Estai contento di San Juan? Si, molto. Che ti ha fatto l'attenzione di San Juan? Mi piace il clima, mi piace il paese, l'Argentina. È più bello. Sì. 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 Sì.